Baleine di Degas Bianche lungo nel vento Le scioglierà Le bambine di Renoir Fiori gialli e amore farà Nella casa è l'inco che Nel prolocchia non so Nell'antimura che Nella notte accenderà Fiamme di stelle Nell'oscurità Guarda chi c'è qua ragazzi Roberto Stella Il Z delle manifestazioni che si rispettano Non può essere E' eventuale Allora oggi presentarei una nuova collezione No? La ci parello da parte Oggi presentiamo la collezione Che abbiamo creato per creazione di Michele Ma è stato giocattissimo Ma è un pochino Visto che è raro Fiedermi a Cassa Se è una volta che viene Quindi approfittiamo Facciamo una stellata Con tutti i spiegati Facciamo spiegare anche lì? Io mi auguro Poi lì in Odi Lo sta molto bene Credo Credo che sarà disponibile Per me lo farà Quanti saranno questi campi Che spiegheranno Noi nel passare 10 anni 10 10 10 10 10 Va bene Va bene Organizzati Io vedo che sentiamo moltissimo Quante belle ragazze Che ti attornano oggi Ma guarda Questa è una fortuna Che ho spesso Ho scelto il castello giusto Mi sa che faccio La serisa Ok Ci vediamo dopo Ciao 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 Amore 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 Come dicevo con gli altri due colleghi Un po' in seconda Tra qualche istante Inizia la caratteristica musicale Divisa la festa Cosa giudicherai E cosa giudicherai Di questi tali Io intendo sempre A considerare La comunicazione L'espressione L'interpretazione È più importante Di tutto il resto Perché penso che A una tecnica carente Si può sopperire Per una grande personalità A una grande tecnica E a una carenza forte Di carattere Di personalità Si sopperisce Molto difficilmente Quindi Preferisco guardare Quello aspetto All'aspetto All'aspetto All'estero Da alcune che ce ne arriva Anche con l'esperienza Poi no Sicuramente L'importante È avere delle attitudini E avere In un momento In cui devi giudicare Dei ragazzi Alle stesse condizioni E giudicare Quelli che sono più alti In questo senso Approfittiamo L'occasione Per fare un po' Di reclame Stasera È rivoluzionamente Vestita È da Roberto Stella Facciamo Facciamo una carrellata Vestitino di Roberto Tutti i miei vestiti Di quest'anno Passare di 10 Modelli Che tu indosserai Poi nel prossimo No L'hai indossati L'hai indossati Quindi Stasera Ripeteremo Non le volte prima Già L'hai visti Già visti Allora In poca un po Buona serata Ciao 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 Ciao